Questo video con la testina lo dedico a Linda che è veramente dolcissima con me. Rilassati, rilassati. Coccole, 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 coccole. Coccole, coccole, coccole. Vero? Immagina un massaggio, un massaggio. Un massaggio rilassante. Come se fossero delle coccole. Prima di andare a dormire, qui sotto il collo, sulle spalle. Coccole, coccole, coccole. Coccole, coccole, coccole. Coccole, coccole, coccole. Coccole, coccole. linda rilassate adesso facciamo un bel massaggio sulle tempie sulle spalle rilassate rilassate adesso prendiamo questa del quale io adoro anche il clink sound e facciamo un bel massaggio un bel massaggio rilassante 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 Grazie a tutti